Pigiamaparty, una promozione imperdibile che parte dal 2 di dicembre e termina il 10 dicembre e che coinvolge tutte le nostre linee di pigiameria delle nuove collezioni. Quindi in queste date troverete attivo un 15% di sconto acquistando almeno due articoli delle nuove collezioni. Varrà quindi su pigiami, camicie da notte o vestaglie. Ovviamente mi raccomando non abbiate paura perché vi ricordo che come sempre in dicembre tutti gli acquisti che voi effettuate nel nostro sito www.redvelvet.it godono del reso esteso e quindi 15 giorni di tempo per effettuare un eventuale reso partono dal 1 gennaio. Quindi non avete scuse, potete assolutamente utilizzare la promo anche per fare i vostri regali di Natale. E non dimenticatevi che sopra i 199 euro si attiva un extra sconto del 10%. Se avete domande fatele qui.